E' arrivata l'app di Alghero Channel, la web social tv. Puoi vedere l'Alghero TG Express in diretta, gli approfondimenti e tutte le passate edizioni del TG. Accedi a tutte le puntate del fortunato format audaci a cuore aperto. Un'applicazione interattiva che ti consente di inviare video, foto e messaggi. Scaricala da Google Play o accedi direttamente dal web www.appalgherochannel.it. Alghero Channel, web social tv. Grazie allora, grazie di essere qua, grazie soprattutto appunto a Massimiliano che ha avuto quest'idea, ma naturalmente a tutti gli altri che hanno sacrificato una serata con famiglie o fare qualcosa di molto bello che avreste potuto fare per conto vostro per essere qua con noi. Per me è naturalmente un onore e soprattutto conoscere e incontrare persone nuove e sentire più che dire, perché in questa fase l'ascolto per noi è una cosa molto importante. Tra l'altro anche questa è una novità. La nostra associazione mi è stato chiesto prima in un intervista, in un colloquio che abbiamo fatto con un collega giornalista, cosa vuol fare l'associazione Sardos. La prima e la più importante cosa che vuol fare è quella di far emergere dalla società sarda tutto quel che è rimasto nascosto negli ultimi 15, 20, 25 anni. C'è una rassegnazione latente, c'è un'assenza di speranza, c'è soprattutto ormai la convinzione che tutto quello che succederà in Sardegna non dipenda dai cittadini, non dipenda dalle persone, perché la politica ormai è impermeabile a quelle che sono le richieste, a quelle che sono le grida di dolore, soprattutto di chi è rimasto indietro e di chi sta male. Ma ormai non è più neanche solo così, come mi capita di ascoltare, di sentire quando vado in giro a parlare con le persone, anche quelli che fino a 10-15 anni fa dicevano di non essere coinvolti dalla crisi o dalla mancanza di opportunità o dall'assenza di speranza, oggi si rendono conto che nessuno può dirsi escluso, nessuna categoria professionale, soprattutto gli autonomi, gli avvocati, i commercialisti, i progettisti, i collaudatori, tutti quelli che insomma avevano fino a 10-15 anni fa la certezza di poter comunque stare sul mercato essendo imprenditori di se stessi, anche oggi invece sono anch'essi rassegnati, schiacciati dalle tasse, dalla burocrazia e soprattutto dall'assenza di lavoro, dall'assenza di opportunità. per non parlare di chi ha perso il lavoro a 40 anni, 50 anni ed è completamente ignorato ed espulso da qualsiasi progetto presente e futuro, diciamo che qualsiasi settore che guardiamo, tranne quello dei beneficiati della politica, oggi lancia un messaggio di allarme. Purtroppo però questo messaggio di allarme è legato solo alla lamentela ed è legato solo alla rassegnazione. Allora noi abbiamo pensato di non rassegnarci, di provare a mettere a disposizione la nostra esperienza, a mettere a disposizione la nostra idea, non solo mia ma anche degli altri che ci sono impegnati qui in questa associazione, per invitare tanti altri a raccontare la loro idea, il loro impegno e a farli impegnare nella cosa pubblica con un assunto. Noi non siamo degli spettatori che decidono in base alle proposte che altri ci fanno e poi decidiamo in base alle proposte che ci fanno per votare per uno o per l'altro oppure non andare a votare. Fare gli spettatori non ci ha portato fin qui, granché fortuna. Fare gli spettatori ha lasciato campo libero a chi aveva altri interessi rispetto a quello dell'interesse pubblico, del bene pubblico. Perciò bisogna impegnarsi in prima persona, bisogna smettere di fare gli spettatori e prendere in mano la propria vita e aiutare la Sardegna, ognuno con quello che può dare. Può essere un'idea, può essere un impegno, può essere un sostegno, può essere una qualsiasi cosa che vada nella direzione del cambiamento. Noi siamo convinti che serva un cambiamento traumatico alla Sardegna di oggi. Serve cioè una profonda discontinuità con quello che conosciamo e forse la discontinuità non basterà ma serve una rottura con un modello di sviluppo o di sottosviluppo che negli ultimi 20-25 anni ripeto, prendendo, diciamo così, salendo sull'onda lunga di tanto di poco buono che era stato seminato anche nell'ultima parte della prima autonomia, quel modello di sottosviluppo ormai sembra quasi irrimediabilmente compromesso. Dico irrimediabilmente compromesso non tanto solo per gli effetti che ha lasciato e che sono sotto gli occhi di tutti con i ritardi che noi accumuliamo in ogni indicatore, non solo economico ma anche sociale. Cioè noi abbiamo una popolazione, siamo gli unici praticamente in questa parte del Mediterraneo e facendo le proporzioni con le altre isole del Mediterraneo, siamo l'unico luogo nel quale si perdono abitanti. Si perdono abitanti per il saldo naturale, cioè morti superano i nati, ma si perdono abitanti soprattutto perché i giovani scappano via e non tornano più qua. C'è una proiezione devastante che è stata fatta da un gruppo di demografi che ha studiato quelle che sono le proiezioni eventuali, se questo è il trend, se questo trend viene confermato. E questo sviluppo ci dice che noi entro 30-40 anni passeremo da 1.600.000 abitanti che abbiamo oggi a 1.100.000 abitanti. Già abbiamo una percentuale di abitanti per chilometro quadrato che è più bassa rispetto alle altre isole del Mediterraneo, pensate che questa cosa diventerà un deserto, ci sarà davvero quel famoso effetto ciambella che porterà praticamente a desertificare quattro quinti della Sardegna, tutta quella dell'interno. Io non oso immaginare cosa potrà diventare un deserto come quello che si prefigura, spero, non voglio credere alle idee che si dicono, insomma, che verrà utilizzato come dependance, come casa degli attrezzi o come casa autorimessa appunto per nascondere tutte le cose che non servono più all'Italia o alle altre potenze ricche della nostra area geopolitica. Io non credo che ci sia neanche questo disegno qua, credo che però ci sia una tendenza che non si riesce a invertire. E questo noi lo leghiamo al fatto che la classe politica sarda è a ruota, la classe dirigente di tutti i settori importanti della Sardegna, il settore della cultura, parlando dell'università e parlando della scuola, il settore dello sviluppo economico legato all'agroindustria, legato al mondo delle campagne, legato al mondo dei servizi, troppo ancora troppo legato alle clientele politiche, troppo impegnato a compiacere il politico di turno, il politico di riferimento, che non a studiare quelli che sono i problemi di quel settore e a studiare dunque possibili soluzioni o a ispirarsi a modelli che da altre parti funzionano dove c'erano problemi simili ai nostri che sono stati affrontati e risolti. Cioè non c'è settore ormai della vita pubblica sarda che non sia pesantemente condizionato dalla politica sclerotizzata. Sclerotizzata vuol dire che si è talmente ormai, diciamo così, rigidita e ha creato così tanta scarsa fluidità di circolazione delle idee, di circolazione delle tensioni etiche e sociali da far diventare appunto sclerotizzata, cioè quasi morente, la circolazione non solo di idee ma anche di soluzioni e come dicevo prima di tensione etica. Perciò è difficilissimo, è un impegno da far tremare i polsi, è un impegno utopico secondo qualcuno, velleitario per altri, ma noi sentiamo il dovere di dover partecipare a un tentativo di proporre una strada nuova. Nel effetto pratico chi ha impersonato in questi momenti il continuismo politico fra centro-destra e centro-sinistra italiani che si sono alternati alla guida della Sardegna in un continuum con la fase politica nazionale che dal 1994 ha previsto un bipolarismo appunto legato tra partiti che si definivano di centro-destra e partiti che si definivano di centro-sinistra, lasciamo perdere quali sono state poi le vere politiche che questi due schieramenti hanno fatto sia a livello italiano che a livello sardo, noi crediamo che siamo arrivati a essere sclerotizzati perché appunto chi doveva condurre, chi ha menato le danze nel settore delle istituzioni pubbliche ha ormai a sua volta sclerotizzato, cioè non credono più a nulla. Quando io per il precedente ruolo che svolgevo e anche per il ruolo che sto svolgendo in quest'ultimo anno mi trovo a parlare con gli amici che vanno per la maggiore nella politica sarda, sono desolato. Quando parlo con loro appunto mi parlano solo di tattiche, di modalità per conservare il seggio, di modalità per conservare l'assessorato, di modalità per spuntare una candidatura in una posizione migliore alla Camera dei Deputati o al Senato, mai con nessuno di loro che io riesca a confrontarmi su un provvedimento che effettivamente sia improntato al bene dei cittadini, agli ultimi, a chi è rimasto indietro, a chi ha necessità di avere una speranza, a chi ha necessità di veramente trovare un motivo per il quale rimanere qua o un motivo per il quale impegnarsi nella vita pubblica o anche solo per tenere in vita i nostri paesi o i nostri quartieri periferici delle poche grandi città che abbiamo. E dunque ripeto, il nostro dovere in questo momento è cercare di far emergere forze nuove dalla società. Stiamo incontrando tanti professionisti, tanti piccoli imprenditori, tanti esponenti delle associazioni, tanti normali cittadini, tanti lavoratori, tanti esponenti, anche dei sindacati delusi da quelli che sono comportamenti dei loro vertici, da sempre conniventi purtroppo con la politica. E a tutti loro stiamo chiedendo di darci un contributo di idee, abbiamo aperto dei laboratori, in due mesi abbiamo raccolto oltre 650 adesioni, questi laboratori virtuali e sono diventate 155 adesso già operative dopo la prima assemblea che abbiamo fatto a Loda, cioè ci sono 155 persone che si sono scomodate una domenica mattina per venire via Loda, si sono materialmente iscritte a questi laboratori e adesso si stanno confrontando con grande entusiasmo tra loro per riuscire a confrontarsi e con l'intento di allargare questa cerchia di confronto a tanti altri sardi che ripeto non vogliono rassegnarsi. A cosa che sviluppo avrà questa cosa non lo sappiamo? Io dico deludendo qualche volta i miei amici che davvero non sono sicuro che Sardos sarà un soggetto politico che si presenterà alle prossime elezioni regionali, ma non lo dico solo per scaramanzia, lo dico perché davvero io credo che nel momento elettorale rischi di corrompere a volte anche le migliori intenzioni. Se noi abbiamo detto che dobbiamo far emergere idee, forze, dare speranza, facciamo questo adesso. Poi se questo riusciamo a farlo, se questo si dà forza, se questo incontra il favore della parte sana della società sarda va da sé che diventerà un qualcosa che trascinerà altri, che potrà fare da apripista, che aggregherà, e va da sé che le persone che non hanno le intenzioni che noi abbiamo si allontaneranno da sole. Io tutti mi dicono, ma stai attento perché se vedono che voi prendete forza ci saranno i riciclati che cercheranno, ma io purtroppo siccome uno non ce l'ha scritto in faccia, né che è riciclato né che è disonesto, noi possiamo solamente giudicare le persone dai loro comportamenti, ma soprattutto possiamo eventualmente coinvolgerle o allontanarle in base ai nostri comportamenti, cioè di chi guida in questa fase, in questa prima fase, questa associazione, ha un codice etico, ha un codice comportamentale, ha una prospettiva che è chiara e trasparente. Se noi riusciamo a tenere salda quella prospettiva chiara e trasparente, va da sé che chi ha altre intenzioni, chi pensa di perpetuare in questo campo quello che fanno gli altri, che hanno fatto gli altri nella scena politica, va da sé che si allontanerà. Dobbiamo avere la forza di continuare a fare questo, ma la forza di continuare a fare questo chi ce la può dare? Ce la possono dare solo altre forze sane che si mettono al nostro fianco, perché finché saremo più i sani, tra virgolette, che gli eventuali riciclati, la barra rimarrà ditta e questa cosa non si rovinerà. Se invece, ripeto, già da oggi si comincia a pensare a elezioni, a cose, alleanze, cosa mi conviene, cosa non mi conviene, mi alleo, non mi alleo, significa che non siamo diversi dagli altri, significa che stiamo andando a fare l'ennesimo, cinquantesimo partito, che poi si dice oggi di voler cambiare le cose come l'hanno detto tutti gli altri 49, ma non cambieranno per nulla, perché sta pensando solo a far sistemare qualche leader o qualche uomo forte che ha voti, che ha conquistati chissà come, attraverso quale clientela, ma non avremmo i risultati che ci aspettiamo. Perciò io penso che c'è un tempo perduto, questo è il tempo di intensificare le iniziative, di intensificare i confronti, di intensificare, noi non ci stiamo risparmiando, io sono venuto qua, la Cagliari, domani sarà Oristano, la settimana prossima ho altri due impegni fuori Cagliari, i quattro abbiamo una grossa assistenza a Cagliari, il sei partecipa a un altro convegno a Cagliari, il sette abbiamo una riunione a Baulato con gli altri partiti del mondo di indipendentità, cioè voglio dire, nessuno di noi si sta risparmiando e noi ci auguriamo che questo esempio possa essere seguito da tanti altri e tanti altri possano, vedendo il nostro entusiasmo, possano a loro volta provare l'entusiasmo per portare il loro contributo e nessuno pensi, ma non sarà certo il mio contributo che farà migliorare le cose, non è così, perché a uno a uno a uno a uno si fa la somma, è la somma che fa il totale, diceva un noto conto, e io credo che sia proprio così, che sia proprio vero così, d'altra parte non conosco altro modo democratico per provare a cambiare le cose, perché l'altra alternativa è non fare niente e arrenderci e lasciare spazio ancora a chi invece non crede più a nulla e pensa che fare politica sia solo un modo per arricchirsi e per conservare posizioni di potere. Finché rimarrà un ultimo utopista o un ultimo velleitario, probabilmente così non sarà e ci sarà sempre chi proverà a cambiare le cose, nella speranza, ripeto, di riuscire a creare entusiasmo e di riuscire a ingrossare a rifiurare questi eserci. Buon appetito e grazie.